Sì, non è che c'è stato un errore. Se pensa a quanto speso per le centrifughe che nemmeno mi piacciono. Qui le centrifughe non risultano. C'è un errore, c'è un errore, eh, c'è un errore, l'ha detto lui. Ho l'uso abbondante delle centrifughe. Un'ora e 32, solo un'ora e 32. Voglio vivere così. Che hai? Niente, che avevo voglia di stare un po' insieme tutti e quattro. Ti amo. Ma adesso come farete senza di me? Cosa? Tu non c'eri già più, papà. C'è l'acciarica, ma era come se non ci fossi. Ma perché? Quanto manca? Mezz'ora. Mezz'ora. Manca mezz'ora. Come si passa perché hai il tempo così? E tu perché hai preso questa strada? Ma lo che c'è? Che hai? Che vuoi? Che dobbiamo fare? La fiorita delle piante ti è ripesta questo cuore. Ma non mi dici questa strada è perché mi hanno detto questa cosa. Perché non sto camminando. Perché il tempo è finito. Vivo una vita. Vivo una vita più": Gi'alato. Vivo una vita più, Said, che si non mi ravi. Vivo una vita più, io devo come anni. Ma mentre poi vuoi, il tempo è successo. Non è un'altra vita. Vivo una vita più, ma lì più. E un'altra vita più. Vivo una vita più, che rinchi. Grazie a tutti.